L'altra notte in un sogno mi ha farsa la chiesa di Mogno. Ho sognato l'architetto botta, vestito con la cotta, in piedi sull'altare che stava a predicare. I fedeli a ginocchioni seguivano le orazioni, se il botta faceva boh, dicevano tutti oi boh, oi boh. Il momento era intenso, non sol per l'odore d'incenso, anche la gente sul portone dava segni di commozione. Ma il momento di maggior passione fu durante l'elevazione, mentre il botta si concentrava era lo stesso che si elevava. Gridò al miracolo un vecchietto quando il botta raggiunse il tetto e dal vetro che al posto del tetto lo vide un pilota di un avioggetto che vedendo librarsi il botta gli è dei numeri e perse la rossa. E ci ha deciso che l'equipaggio verrà mogno in pellegrinaggio, insieme a tanta gente da ogni parte del continente. Si accenderanno i ceri, si faranno tante foto, ci saranno le offerte, si faranno gli ex vuoto. Poi ho sognato un miscredente che diceva io non credo a niente, però sto zitto perché sono un tapino, non voglio far la figura del cretino. Non parlatemi di fede e di arte, io vado a pregare da un'altra parte.